incredibile ore 23 15 guardate che cosa sta succedendo davanti all'irva di taranto una nube immensa non è vapore il vapore è benissimo lo possiamo riconoscere è ben diverso guardate è incredibile quello che è succedendo adesso alle ore dentro 23 15 del giorno 10 dicembre 2017 guardate tutto come prima chiaramente io ripeto da tanti anni ormai che non cambia bene guardate quello che succede in questo momento pazzesco guardate dall'irva di taranto è veramente guardate dove arriva questa colonna enorme questa colonna enorme di fumo un'altra cosa un'altra cosa è un'altra cosa 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 un'altra cosa